Nuovo ciclo di tamponi questa mattina gli studenti al personale scolastico dell'alberghiero De Cecco di Pescara. Professoressa, continuano gli screening, continuano i controlli, sono riprese le lezioni, si va avanti. È una iniziativa molto importante che è stata promossa dal Comune dell'Asa di Pescara che va nella direzione e direi anche nella logica della prevenzione e quindi rappresenta uno strumento ulteriore di rafforzamento delle nostre misure di prevenzione e di sicurezza proprio in questo momento in cui riprendiamo le attività in presenza al 50%. Stiamo riproponendo, rinnovando e anche rafforzando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza che avevamo già adottato all'inizio dell'anno. In particolare stiamo rafforzando le misure di sicurezza all'interno dei nostri laboratori di enogastronomia e di accoglienza turistica dove è molto importante garantire il massimo distanziamento proprio perché le posizioni non sono statiche ma dinamiche. Abbiamo inoltre dato l'opportunità alle nostre classi di poter svolgere lezioni all'aperto e quindi con la massima tutela della salute individuale e collettiva possibile attraverso la predisposizione di gazebo nei cortili della nostra scuola. E abbiamo predisposto delle misure più rigorose di distanziamento nella mensa del nostro committo. E quindi è molto importante riprendere la scuola in presenza ma riprenderla con tranquillità, riprenderla quindi con il massimo della fiducia nelle misure che sono predisposte. Gli esami di maturità si svolgeranno comunque in presenza anche quest'anno ma si svolgeranno con delle modalità particolari. Quindi non ci saranno le prove scritte ma ci saranno esclusivamente le prove orali. Io non sappiamo ancora come istituto alberghiero la data per lo svolgimento degli esami di qualifica delle classi terze che di regola si svolgono all'inizio di giugno. Quindi aspettiamo informazioni su questo punto dalla regione Abruzzo.